Il progetto realizzato in collaborazione con Ducati Corse Su questi dati basano le loro decisioni per la gara stessa Come si può facilmente intuire la protezione deve essere assoluta contro ogni minaccia esterna Dal malware che può penetrare da una chiavetta USB di un ingegnere Al tentativo di attacco o di spionaggio all'esterno dell'ambiente di gara stesso Endpoint Protection Business è la soluzione che Ducati ha scelto Dopo un'attenta valutazione per la protezione delle loro esperienze di gara Asmao ha presentato un percorso formativo con molti contenuti dedicati al GDPR Cosa devono sapere le aziende su questo tema? Sì, il tema del GDPR è sicuramente il tema del momento Anche noi facciamo e conduciamo parecchie campagne di sensibilizzazione e informazione alle aziende Secondo me le aziende hanno la possibilità di sfruttare la compliance normativa In particolare l'adeguamento al nuovo regolamento europeo come vantaggio competitivo strategico Inoltre le stesse aziende possono utilizzare l'opportunità rappresentata dall'introduzione del GDPR Che ricordo a tutti sarà il maggio del 2018 Per far meglio l'IT aziendale Proprio perché il nuovo regolamento include e incorpora tutta una serie di best practice Di norme del nostro settore Che non possono che migliorare il livello medio di protezione aziendale